Non parole ma fatti. Con questo slogan la consigliera di parità della provincia di Chieti Annarita Guarracino e il responsabile dell'ufficio Lorenzo Cesarone hanno presentato le numerose attività promosse in materia di parità e di politiche di conciliazione vita lavoro. Dopo l'apertura di uno sportello di consulenza legale e la costituzione di una rete locale per la programmazione negoziata, da oggi si aggiungerà un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico per il disagio lavorativo in caso di discriminazioni, molestie, mobbing e stalking. Lo sportello tenuto dalla psicologa Simona Napoletano sarà a disposizione dell'utenza ogni martedì mattina dalle 9 alle 13 e giovedì pomeriggio dalle 15 alle 18. Questo è un altro supporto dopo quello che noi abbiamo dato con lo sportello legale che ad oggi ha avuto un grande successo quindi siamo intorno al 50% di soluzione dei casi che abbiamo ricevuto. Sono tutti fatti non parole perché ci piace appunto fare e non dire. Entro il mese di ottobre i dati raccolti dall'esperienza dell'avvocatura e dello sportello psicologico verranno raccolti in un libro bianco. Lo studio curato dalla dottoressa Tea Rossi restituirà un prezioso quadro d'insieme sulla situazione lavorativa in particolare delle donne nella provincia di Chieti e costituirà uno strumento unico di analisi e comprensione dei fenomeni discriminatori di genere.